Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo brevissimo vlog infatti come avrete sicuramente notato nella giornata di ieri è finito Pokemon Inheritance, la beta che stavo portando da circa una settimana questo vuol dire un'unica cosa ho bisogno di una serie secondaria da accostare alla Crazy Lock e quale miglior cosa se non chiedere a voi di votare in un sondaggio come al solito prima di iniziare i voti nei commenti non li conto non li conto come al solito ci sarà un link in descrizione di uno Stroopold dove potrete votare è molto semplice, non c'è bisogno di iscriversi cliccate sul link vi appariranno delle caselle in cui potrete semplicemente selezionare la serie che volete le serie in questione sono 4 e stiamo parlando di 3 randomizer Nazlock e un fangame le randomizer Nazlock però non sono Nazlock normali sono bensì Nazlock di Akrom è una cosa che in Italia non è stata ancora fatta ossia prendere una Chrome e randomizzarla facendoci una Nazlock all'estero soprattutto in America è già diffusa come cosa in Italia non l'ho ancora vista fare perciò ci tenevo a provare una cosa simile prima che me lo chiediate non si possono fare Crazy Lock queste ROM quindi evitate già di fare certe richieste che io non posso esaudire perché non ho la tecnologia a disposizione e tra l'altro ho bisogno di chiedere a Luke di randomizzarmi le ROM ma comunque le serie sono Flora Sky Randomizer Nazlock Pokemon Glazed Randomizer Nazlock e Pokemon Light Platinum Randomizer Nazlock queste sono le 3 Akrom che pensavo di fare in questo modo ovviamente qualcuno mi ha chiesto di fare anche Dark Rising ma sapete non è proprio il caso perché o porto un episodio ogni mese perché mi devo allenare oppure perdo dopo due episodi in ogni caso il terzo gioco si tratta di Pokemon Uranium me lo avete chiesto in tanti è uscita in questi giorni la versione finale o meglio la versione che ha una fine non so se è finale dubito comunque la versione in cui c'è la Lega e quindi signori miei quale momento migliore se non fare questo fangame che l'ho visto e lo reputo uno tra i migliori mai creati anche se probabilmente Xenoverse Xenoverse lo raggiungerà stanno impazzendo di sotto e vabbè comunque votate nello straw poll non nei commenti non so neanche quando uscirà questo video il sondaggio si chiuderà circa lunedì martedì la serie spero di farla uscire magari settimana prossima cioè la prossima settimana cioè quella dopo quando quella dal 21 in poi non so neanche non so neanche non so neanche